Qua in primo di oggi è la fresca Qua in primo di oggi è la fresca andiamolo qua a mettere gli altri ma anche un altro piccolo comunque è meglio e poi speriamo eccolo qua cavolo che posizione scomoda eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qua ecco qua Bratale! mettiamoci qua sotto vediamo andando su per la pietraia pietraia qualcosa c'è ora posso stare con gente che il bosco è molto molto girato ecco bello ragazzi che meraviglia guardate, uno, due, andiamo a raccogliere che meraviglia e poi questa che ho trovato un po' più in là un po' più gattina un po' più un po' più